Non qualificherei la cosa a un battibecco, semplicemente il Ministro Farnero aveva esposto un suo avviso peraltro noto e conosciuto. Io credo che questa cosa verrà risolta in Consiglio dei Ministri e poi dopo ovviamente in Parlamento. Non dimentichiamo che parlando di un criterio di delega, l'importante è porre il tema, le soluzioni poi possono essere individuate tecnicamente a mano a mano che andiamo avanti. Credo che sia importante che vada avanti questa riflessione sul lavoro pubblico.